La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Proseguiamo ora con eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, sviluppo software, chatbot aziendali. Il premio va a 10 points. Per essere un punto di riferimento nel proprio settore, per il team unito dalla passione per le nuove tecnologie e la trasformazione digitale, per le soluzioni innovative fornite e per il focus sul cliente. Congratulazioni! Grazie, buona serata! Diamo il nostro benvenuto a Fabian Santecchia, CEO della 10 points, azienda che si occupa dell'ovviluppo software su misura. Questa sera per voi è la prima volta ai Le Fonti Awards. Infatti il nostro comitato scientifico vi ha selezionato tra le eccellenze italiane nel campo software tailor-made. Ci descriverebbe i punti forti della sua azienda e cosa vi distingue dai competitor? Sì, i punti forti dell'azienda sarebbe che noi tentiamo di entrare proprio dentro del DNA del cliente, no? Tentiamo di pensare come pensano loro, vedere la realtà con gli occhiali di loro. Quello, senza dubbio, diventa vincente all'ora di fare la digitalizzazione aziendale. Il codice viene dopo, non è quello il problema. Ingegner Santecchia, secondo lei quale impatto avrà l'intelligenza artificiale nel vostro settore e come intendete cavalcare le nuove opportunità offerte? Allora, premesso che l'intelligenza artificiale già è in uso nel nostro settore, soprattutto perché il software è un composto di tante, diciamo, fasse operative. In quello ci aiuta tanto l'intelligenza artificiale. Ma rimane comunque il direttore d'orchestra che è lo sviluppatore, che ha un'idea complessiva di, come dicevo prima appunto, la realtà dell'azienda. Teniamo conto che il software custom è come un vestito, va a misura e nessuno esce da strada per un vestito che non piace. Quindi va bene l'intelligenza artificiale, c'è e la usiamo e tanto, ma sempre c'è il sarto che le dà la forma finale. Parlando adesso di trasformazione digitale, secondo lei a che punto è l'Italia in questo senso e quali sono i settori dove è più necessario intervenire? Premesso che non potrei parlare di tutta la realtà italiana, semplicemente di quei settori dove ci sono, diciamo, appartengono i nostri clienti, ad esempio l'automobile, l'infrastruttura, monitoraggio, eccetera, eccetera. Credo che noi abbiamo una qualità molto alta d'eccellenza e ci sarebbe un punto da migliorare, oltre ovviamente al classico, che magari ci manca un po' di rete, di infrastruttura o qualcosa di così, sarebbe di creare net. Quella sarebbe un po' una realtà che se riusciamo a migliorarla sarebbe proprio il top. Del resto creo che lo abbiamo. Qualora fosseri candidato tra le eccellenze nel settore software, tornerebbe alle fonti awards e se sì perché? Beh, se siamo di nuovo candidati vuol dire che allora abbiamo fatto bene il nostro mestiere. Sì, sì, di sicuro torneremo, senz'altro, sarebbe anche un onore per noi. Cosa rappresenta per lei questo riconoscimento? Beh, è molto positivo dal fatto in cui tante note in bianco, tante sforze per consegne che sono così veloce, con tempistica. Tutto lo frenetico si concretizza con un bel evento come questo che state facendo voi. Quindi per noi è molto importante questo.